L'Europa vuole essere portatrice di pace, difesa dello Stato di diritto e la Presidente Mezzo l'ha ricordato perché l'Europa difende l'indipendenza dell'Ucraina, difendiamo la libertà, il diritto internazionale, è un Paese candidato a far parte della nostra Unione e noi vogliamo che anche lì arrivi la pace. Davide aveva cominciato a battersi anche lui per difendere l'indipendenza di quel Paese, a lui piaceva comunicare, parlare e lo faceva bene perché era poi il suo mestiere, abituato attraverso il video a raccontare quello che accadeva in Italia e nel mondo ai telespettatori, aveva portato questa sua grande esperienza anche in Parlamento e cercava sempre di comunicare nella maniera migliore ciò in cui credeva, perché siamo tutti europeisti, abbiamo a volte idee diverse, apparteniamo a forze politiche diverse, però quello che conta è avere dentro di sé degli ideali, dei valori da coltivare e da difendere.